Agricola Lusia quest'anno compie 20 anni ed ha alle spalle un'esperienza familiare lunga ben tre generazioni. Opera nel settore food B2B della frutta fresca, più in particolare si occupa dell'approvvigionamento, selezione, confezionamento e distribuzione alla GDO nazionale. Oggi il focus aziendale si concentra su una specifica categoria in continua crescita, quella degli agrumi e principalmente in estate. Dopo il consolidato cambio generazionale, con la nuova gestione manageriale, l'azienda mira a posizionarsi sempre di più come una realtà moderna, dinamica e innovativa. I nostri obiettivi di crescita aziendale nei prossimi 5-10 anni? Rivoluzionare il consumo di agrumi e diffondere uno stile di vita sano, attraverso un percorso di sviluppo che prevede l'innovazione tramite il progetto I Succosi, i primi e unici agrumi al mondo a succosità garantita, grazie ad un brevetto depositato in accordo con lo studio condotto insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia. La destagionalizzazione della vendita attraverso la filiera integrata, così da offrire una fornitura costante tutto l'anno. L'internazionalizzazione tramite un ambizioso programma di sviluppo sui mercati esteri, anche con la concessione del brevetto in royalties. La fidelizzazione del cliente all'acquisto ricorrente, attraverso uno spremi agrumi automatico ad uso domestico e retail, ma con tecnologia innovativa e funzionalità da prodotto professionale, in modo tale da diversificare l'offerta cross-sector e incrociare food e food tech. Agricola Lusia, Empower Citrus Performance.